...esterno della stagione battendo per 2-0 con un gol per tempo il terrelitto Ostuni. Ora la squadra di Maiuri veleggia nella zona play-off e tra l'altro coccola i suoi nuovi arrivi, uno dei quali decisivo nella gara di Ostuni. Primo tempo per niente entusiasmante tra Nardò e Ostuni in quanto a qualità di gioco. L'Ostuni è poca cosa rispetto a un Nardò che quando tiene palla a terra sa dove far circolare il gioco nel migliore dei modi. In più c'è il pressing serrato che Mr. Maiuri fa applicare ai suoi e così il Nardò fa capire subito le sue intenzioni, ovvero tornare a casa con il primo successo esterno in campionato. Il match inizia però con Ostuni pericoloso dopo un minuto, con Salvia che impegna Sorrentino sul tiro piazzato. Il Nardò però risponde dopo appena due minuti, altri con Pereira che servito da Palmisano mette a lato. Al nono minuto il Nardò passa in vantaggio, Montaldi tutto solo batte con un rasoterra chirurgico De Pascale. Lo Stuni subisce il colpo e il Nardò in calza, al ventesimo Montaldi in rovesciata impegna il portiere, al ventisettesimo punizione di racce per Manzillo che in spaccata conclude devolmente. L'ultimo quarto d'ora di tempo vede il Nardò controllare agevolmente, uno Stuni privo di gioco soltanto molto volenteroso. Velleitarie le conclusioni di Barnaba per i padroni di casa al trentaseiesimo e successivamente al quarantaquattresimo. Il Nardò chiude il tempo con una punizione di Race parata in tuffo dal bravo De Pascale. La ripresa non offre granché da vedere. Il livello tecnico scade ai limiti della decenza per lo Stuni, privo di collegamento tra i reparti. Il Nardò si accontenta di gestire il vantaggio puntando sul consueto pressing e sull'aggressività a tutto campo. E lo Stuni come nel primo tempo a dare in là le occasioni da rete. E' l'undicesimo quando Ciaramitaro crossa in area dove Milzi non arriva in tempo per il Tapina. Maiuri fa debutare uno dei nuovi arrivi, la punta a Maiella che subentra un positivo per Eira. Pochi secondi dopo il Nardò si vede annullare un gol segnato da Montaldi per posizione di fuorigioco dello stesso attaccante. Maiella si fa notare al ventunesimo con un destro in corsa parato dal portiere ostunese. La partita scorre senza grosse emozioni e con il gioco frammentario su entrambi i fronti. Montaldi in giornata di grazia sfiora il raddoppio di testa al trentaseiesimo. Poi ci pensa il debuttante acquisto di dicembre, Maiella a chiudere il match con un gol di Rapina segnato a un minuto dal termine. Lo Stuni riceve gli applausi per la generosità sfiorata in campo. Il Nardò li riceve dal suo pubblico da 200 festanti tifosi per il primo successo esterno della stagione e per l'ingresso a piccoli passi nella zona playoff, nonostante il buon mister Maiuri debba ancora accontentare una parte della tifoseria in contestazione con lui, nonostante l'ottimo lavoro.